Prima di guardare il video, ti chiedo un piccolo favore. Schiaccia il tasto iscriviti e metti mi piace. Grazie mille! Sossio Aruta rompe il silenzio e svela la verità dietro la sua rottura con Ursula Bennardo. In un toccante messaggio su Instagram, l'ex volto di uomini e donne ha chiarito che non c'è stata infedeltà, ma incomprensioni caratteriali che hanno portato alla fine della loro storia. È un momento tristissimo della mia vita. Mai avrei voluto questo distacco. E mai mi sarei allontanato da mia figlia, ha dichiarato Aruta. La coppia, che si era conosciuta nel programma di Maria De Filippi e aveva dato il benvenuto alla loro figlia bianca nel 2020, sembra non propendersi per un ritorno insieme. Ursula, nella sua dichiarazione sui social, ha affermato che la storia è giunta al termine dopo un lungo periodo di crisi e non ci sarà alcuna possibilità di riconciliazione. Nonostante i momenti difficili, sia Ursula che Sossio hanno sempre messo al primo posto la figlia bianca. Resta da vedere cosa riserverà il futuro per entrambi.